Sono i cavalieri del Dilan Dogide Oba laba dab dab e bentornati su No Mamamazzo Bentornati nella rubrica Samuel Stern Anche questa volta non parliamo del solito mensile Perché del solito mensile non c'è soltanto questo in edicola Ma c'è anche l'extra che è tornato per il secondo anno di fila L'extra annuale che l'anno scorso aveva fatto un po' un sunto Di tutto quello che è stato il primo anno di Samuel Stern Mentre quest'anno si concentra proprio sui comprimari Sui personaggi secondari più vicini al nostro libraio di Edimburgo Prima di cominciare se ancora non lo avete fatto Iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace o un non mi piace A questo video che vi frega Condividete il video con tutte le persone che hanno almeno 4 amici E commentate qui sotto insieme ai vostri 4 amici Su quello che ne pensate di questo video e di questo albo Questo extra ha 4 storie all'interno E ci sono anche degli inserti davvero interessanti Dove si fa un po' la storia dei Bonellidi Si prende proprio a piene mani il fatto che Samuel Stern è un Bonellide Ma che cos'è un Bonellide? Un Bonellide è quel tipo di fumetto che non appartiene alla casa editrice Sergio Bonelli, editore Ma ne mantiene il formato E con formato intendo dire sia le dimensioni Che proprio la base per l'altezza Quindi se voi lo mettete vicino a un Dylan Dog Ha un Tex Wheeler, ha un Dampir È lo stesso formato Ma non appartiene a quella casa editrice Da cui però ne prende il nome Perché è diciamo tratto da quel formato Quel formato è stato lanciato dalla Sergio Bonelli, editore Dicevo, Samuel Stern proprio non si vergogna assolutamente di questo nome Hanno proprio detto, si sa, che il paragone era inevitabile Un protagonista che vive nel Regno Unito Che ha a che fare con i demoni Che mette le mani proprio nell'incubo Il paragone con Dylan Dog era inevitabile Anche se sappiamo tutti Noi che leggiamo sia Dylan che Samuel Che comunque l'argomento trattato Viene trattato in modo molto diverso E quindi ce la facciamo a non definirlo una copia di Ma all'inizio, quando questa cosa non si sapeva Hanno deciso appunto di dirlo subito Proprio papale papale Per questo che il numero uno aveva come titolo L'incubo a un nuovo avversario O meglio, aveva come titolo un nuovo incubo Ma c'era il sottotitolo L'incubo a un nuovo avversario Proprio per far capire che è arrivato anche lui È arrivato anche Samuel Stern Che sappiamo che farete il paragone con Dylan Dog Però appunto ne siamo consapevoli Non stiamo creando una cinesata Dato che è il secondo annuale Vorrei fare un po' di nomi finalmente Qua mi tocca fare nomi e cognomi Come diceva qualcuno Ovviamente Gianmarco Fumasoli Si sa direttore della testata Direttore proprio editoriale Massimiliano Filadoro Che insieme a Fumasoli È il creatore del personaggio Ed è il curatore di questa collana Qua ci sono appunto come ho detto prima Quattro storie Una per ogni cavaliere E sono scritte da Massimiliano Filadoro Andrea Guglielmino Antonella Liverano Moscoviti E Marco Savegnago Che ha spesso collaborato Con Filadoro e Fumasoli Per fare il critico della maggioranza Delle storie che abbiamo letto finora La copertina è di Elena Casagrande Poi nomino anche il lettering Che è di Paolo Altibrandi Che se no non lo nomino mai E la copertina è di Antonio Milnaric Scusate se lo pronuncio male Ma comunque lo stesso autore Che se non sbaglio Sto andando a memoria Dovrebbe aver disegnato L'altro inferno Il numero 10 Correggetemi se sbaglio Qui sotto Tutte e quattro le storie Sono davvero molto interessanti Mi hanno rapito Ognuna In una maniera diversa Se proprio devo trovare Una pecca In questo albo È che è uscito troppo presto Questo albo Andava a letto La notte di Halloween Lo so Lo so che la Bugs Comics Sarà presente a Lucca Comics Che quindi Magari Non avrebbe potuto Lo so Che magari Un nerd Che sarà a Lucca Comics Quando è a Lucca Comics Non festeggia Halloween Perché ne avrà piene Le palle di maschere Dopo aver camminato Tutto il giorno per Lucca Ma Per noi poveri disgraziati Non lo so ancora Se vado a Lucca Ma sicuramente Non ci vado il 31 ottobre Ma per i poveri disgraziati Che stanno a casa Questo numero Sarebbe stato bellissimo Da leggere Il 31 ottobre Di notte Magari Sotto le coperte È una figata Chiaramente Potete leggerlo Quando volete Io l'ho letto Subito subito In una giornata di sole Che non c'entrava un cazzo Col fumetto Perché Ne volevo parlare con voi Però ecco Se avete occasione Leggetelo In una notte buia E tempestosa Partiamo con Il primo La prima storia Che parla di Padre Duncan Una storia Molto seria Quanto meno perché C'è una presentazione Molto dettagliata Del personaggio Che appunto Affonda le radici Nel passato Di Padre Duncan In quello che ha dovuto Subire Nell'Irlanda del Nord Nella sua gioventù Quello che ha dovuto vedere Quello che ha dovuto Assaporare Sulla propria pelle Cioè proprio Il conflitto Tra Protestanti E cattolici Nelle guerre Appunto Dell'Ira Nelle guerre Dell'Irlanda Dell'Irlanda del Nord E insomma Una cosa abbastanza Tosta Che francamente Un giorno Mi piacerebbe vedere In un fumetto Mi piacerebbe proprio vedere Le origini del giovane Padre Duncan In un fumetto Qua invece poi Si verte su una storia Un po' più Lovecraftiana Disegnata Egregiamente Da Da Baldolini Che Io spero di non bestemmiare Ma a me In alcuni tratti In alcuni In alcune sfumature Forse Non so se l'ho già detto Sempre per Baldolini Ma sicuramente L'ho già notato In un altro numero A me ricorda un po' Corrado Roy Nel modo in cui Diciamo Sfuma I suoi disegni Ci sono delle splash page Che poi magari Vi farò vedere anche Nei reel Ma ve li faccio vedere anche qua Perché sappiamo che i reel Sono cortissimi Che sono spettacolari Sono stupende Ti mette proprio Quell'ansia Da dove cazzo mi trovo Sono davvero all'inferno Spettacolare La storia Devo dire che Nonostante l'argomento È anche abbastanza leggera È anche abbastanza carina Mi è piaciuta Mi è piaciuta molto La seconda storia Sfoglio perché devo Ricordarmi qual è Ok La seconda è quella di Penny Mi è piaciuto molto Allora Penny purtroppo è uno Tra i quattro personaggi No oddio Tra i tre personaggi Perché Cranna Proprio l'abbiamo visto pochissimo Ma tra i tre personaggi storici Quindi tra Duncan, Angus E Penny Penny è quella che abbiamo visto di meno E soprattutto ultimamente L'abbiamo vista di meno Sappiamo che è una donna forte Che è una donna che Forse è anche più forte A livello di indole Di carattere Di Samuel Stern E in questa storia invece Si è guardato il suo lato Un po' più Un po' più sentimentale Il lato Appunto che Apre il cuore Alla sua Alla sua amata nonna Che l'ha cresciuta E che l'ha sempre difesa Quindi magari vediamo Un personaggio diverso Da quello che Conosciamo di solito Non è Una critica negativa Anzi Però per arrivare a questo Lato di Penny Avrei voluto vedere Di più Penny Negli altri numeri Spero di vederla di più In futuro Ovviamente Perché appunto Questo suo lato di Penny È molto In contrasto Con Con la Penny Che abbiamo visto Come comprimaria Di Samuel Stern Detto ciò La storia È una figata Si parla apertamente Di Samain Che Io adoro È praticamente È il capodanno Dei Celti È il capodanno Celtico E cavoli Se non lo sanno In Scozia Questa cosa Chi cavolo Ce lo deve dire Ci dicono In poche righe Come appunto Halloween Abbia preso Diciamo Abbia rubato Come tante tradizioni Come tante Feste cristiane In passato Piuttosto che andare A scontrarsi Con la religione Precedente Del luogo Cosa facevano? Prendevano le festività Della religione Precedente E pian pianino La cambiavano E così Samain Il capodanno Dei Celti Che Se non sbaglio Si andava Nell'anno Del buio Qualcosa del genere Nel periodo del buio Da quello della luce È diventato La festa È diventato Ogni santi In cui Non si festeggiano I santi E il giorno dopo Si festeggiano I morti Il 2 novembre Mentre qua C'era appunto Questa tradizione Di cui parla appunto Penny E della sua nonnina Per cui A Samain Si possono Diciamo Richiamare a sé I defunti Un po' Come la tradizione Messicana Che abbiamo visto In Coco Che se non sbaglio Qual è il Cinco de Mayo Correggetemi Sempre se dico Cazzate Perché Sto andando Proprio a memoria Non ho Non ho fatto Ricerche In questo caso Mentre appunto Nella tradizione Celtica Appunto Il 31 ottobre La notte Tra il 31 ottobre E il primo Di novembre E hanno buttato Dentro anche Il termine Benshi Che è Spettacolare Che è la classica Strega Dalla voce Potente Se Se per caso Vi è L'avete già sentito Da qualche parte Questo nome Ma non riuscite Ad afferrare Dove E mi è piaciuto Proprio tanto Questa Questa storia Come hanno spiegato Questa tradizione Soprattutto mi piace Che queste cose Ci siano in un mondo Di Samuel Stern Dove Principalmente Si parla di demoni Ma magari in futuro Quando si sarà chiusa La prima stagione Di 24 numeri Quindi quando la guerra Tra angeli e demoni Magari sarà Accantonata Sarebbe bello Vedere Samuel Stern E Penny E i comprimari Affrontare anche Queste varianti Sul tema Ovviamente anche qua Non so Chi è che l'ha disegnato Scusate Perché so che Andiamo a vedere Ve lo dico subito Ovviamente anche qua Ci sono delle splash page Fantastiche Ovviamente in tutte e quattro Le storie Laddove c'è un flashback Il flashback Passa Dal bianco e nero Alla scala di grigi Che è una cosa Che io adoro tantissimo Allora E di Ramacci I disegni sono Di Ramacci Fabio Ramacci Bellissimo nome E mi sono piaciuti molto Sia nei bianchi e neri Sia nel passato Dove c'è la bambina E quindi anche Un disegno un pochino più Infantile Mentre nel presente Soprattutto quando c'è il buio È davvero Attanagliante il buio Che L'utilizzo del nero In queste In queste tavole Le ombre Che sembrano sempre Degli artigli Sia Nell'immaginario Della bimba Sia nel presente Sono spettacolari Fino ad arrivare A delle tavole Totalmente buie Bellissimo Bellissima Storia anche qua Molto corta Molto semplice Se vogliamo Con una punta Di romanticismo Nel finale Di amore perseverante Per citare Visione Nel finale Che mi è piaciuto Davvero tanto E che appunto È forse Tra tutte La storia Che avrei preferito Appunto Leggere il 31 Ottobre Proprio perché Parla di Samane Come dicevo Nel centro C'è un bel Intermezzo In cui si parla Di tutta la storia Degli altri bonelli Di chiamati Dilan Dogidi Che appunto Hanno cercato Di scavalcare Di cavalcare L'onda del successo Di Dilan Dog Per argomenti E formato Alcuni riuscendoci Altri un po' meno Spero che Samuel Stern Vada avanti Tantissimo E vada avanti Sempre con questa qualità Tra Non li ho letti tutti Perché non ce l'avrei fatta A fare il video In tempo Però poi continuerò La lettura Tanto non penso Di parlarne con voi Mi sono giusto Soffermato Su quello Più conosciuto Che è John Do Che è abbastanza famoso È abbastanza recenti Tra quelli recenti Ma in generale È quello più famoso Che hanno nominato Non hanno nominato Invece ve lo faccio vedere Massimiliano Filadoro Fammi sapere se conosci Questo bonellide So che forse Non è proprio Non lo so Secondo me È un Dilan Dog In un certo senso Conoscete Nimrod Cacciatori della bestia 666 Premessa Che a me è piaciuta tantissimo Edizioni Star Comics Tra l'altro Edito nel novembre 2007 Ho preso Quattro No Cinque numeri E poi non ce l'ho più fatta Perché se le premesse Sono Sono molto belle Esattamente come Samuel Stern Che appunto Ha delle premesse Demonologiche Sulla mitologia cristiana Che a me piacciono tantissimi O ci vado a nozze Diciamo I personaggi Non mi hanno Assolutamente preso Perché abbiamo Questo qui Questo tizio qui Che dovrebbe essere Tipo un maghetto Che francamente Non mi ci rispecchiavo Questo è un cacciatore Quindi non mi ci rispecchiavo Assolutamente E poi c'è un poliziotto Di mezza età E anche lì Non E poi c'è questo sacerdote Che sembra la versione magra Di padre Duncan Che è una sorta di Di sacerdote ninja E questo era l'unico personaggio Che davvero mi piaceva Tanto è che l'hanno esplorato Nel numero 5 Però Complice anche la presenza Degli altri tre Di cui questi due Dovevano essere I protagonisti Non mi ha preso Non so Per quanto sia andato avanti Credo comunque Una ventina di numeri L'abbiano fatti Fatemi sapere Se voi lo conoscete Se vi piace Potremmo fare qualche live Magari sul sito Viola In cui lo rileggiamo Potremmo rispolverare Il sito Viola Vediamo Continuiamo con le ultime due storie Quella di Angus È davvero straziante Soprattutto perché Si scopre Una grave ferita Nel passato di Angus Un pochino Telefonata no Però Francamente Io non pensavo Che Angus Avesse mai avuto Un'interazione amorosa Con qualcuno Nella sua vita Mi sembrava troppo arcigno Però ecco Sul finale Quando si è vista La sua ragazza Che andava a prendere Questa macchina Da scrivere Insomma Un pochino Avevo capito Che c'era qualcosa Di grave Se ci fate caso È ambientato A Allora Edimburgo Agosto 2021 In realtà Io l'avrei ambientato Ad agosto 2020 Perché In questo numero Angus dice Non ho mai più usato Una macchina da scrivere Da allora Ho sempre usato Carta e penna Se voi notate Dal settembre 2020 I racconti Scusate Gli appunti Del Daryling Sono scritti Non più A mano Ma con la macchina da scrivere Segno che Angus Ha ricominciato A utilizzare La macchina da scrivere Che c'è in questo numero Ed è una grande Chicca Piccato Che hanno sbagliato l'anno Perché è successo A settembre 2020 Non 2021 Quando già scriveva Con la macchina da scrivere Da un pochino di tempo Però Una grande Figata Il mese di agosto Non è assolutamente casuale Ultimo Ma non meno importante Solo L'abbiamo visto di meno Ma in soli In soli due Storie ha conquistato I lettori Si parla Del poliziotto Cranna Di cui non ricordo mai Il nome tra l'altro Vediamo Foster Cranna Una storia davvero Di quelle Fastidiose Cioè dove Il nemico di turno È odioso In questo caso Sono i I classici Bulletti Che calcino Che calcino troppo Piuttosto che Per i protagonisti Stronzetti Che invece Hanno sicuramente Qualcosa di marcio Nascosto Nel loro passato Bene Ho parlato Fin troppo Volevo parlare Solo 5 minuti Di questo Samuel Sterma Oh Mi piace ragazzi Che vedevo di Ovviamente Cercherò di tagliare Un pochino Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Scrivetemi qua sotto Qual è la vostra storia Preferita E qual è il vostro Personaggio preferito E se in questo caso C'è stato Non so La vostra storia Il vostro personaggio Sono stati gli stessi O se C'è stata una storia preferita Nonostante il vostro personaggio Sia un altro Insomma Ci siamo capiti Io come sempre Con l'inchino e con l'imbuto Vi saluto E vi dico Arrivederci Al prossimo video